segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora a questo proposito parliamo della rai del servizio pubblico marco dal qui no perché oggi intanto su questo fronte abbiamo visto una cosa che ancora non avevamo visto che è una norma contra persona che di fatto ha obbligato ha spinto l'amministratore delegato carlo fortes a dimettersi cosa che ha fatto oggi e ha diramato anche altri istituti importanti allora oggi ha diramato una nota molto dura contro l'ingerenza in debita del del governo e ha detto anche che ha sempre ritenuto la libertà delle scelte di un amministratore un elemento imprescindibile di etica di un'azienda pubblica e quindi si è dimesso il partito della meloni fratelli d'italia in serata ha diramato a sua volta una nota in cui sostanzialmente hanno detto che fortes si è dimesso perché con lui la rai stava andando male da un punto di vista economico finanziario quindi diciamo anche qui una battaglia un bel capottino li stanno facendo cosa ti compisce di questa vicenda che c'è qualcosa di antico che vogliamo riecheggiare perché non è la prima volta che a un cambio radicale di stagione politica si assiste a un rivolgimento di questo tipo nella prima azienda come viene definita sempre la prima azienda culturale italiana quella che occupa la vita di direttore generali amministratore delegato c'era un pochino era più morbido la transizione anche perché mancava un anno attenzione c'è un elemento nuovo è grande che c'è una forza politica che è la forza politica dominante in questa in questa legislatura che non è mai stata a capotavola e non è mai stata quella che guida le danze cioè fratelli d'italia è erede di una tradizione politica che non ha mai avuto un ruolo principale nella riorganizzazione quindi stai suggerendo che la fame di potere di poltrona è più forte dico che c'è un progetto politico chiaro dichiarato anche che è quello di costruire un immaginario collettivo un lessico un legemonia culturale vogliamo chiamarla in termini una cosa è stato dichiarato voglio dire che c'è un antico grazie a tutti